ma siete matti queste sono state le parole di michelle hunziker in lacrime durante la puntata del 27 maggio 2024 di io canto family l'emozione era così forte che la padrona di casa non è riuscita a trattenersi il momento più toccante è stato regalato da daniel e sua mamma georgia la loro interpretazione del brano quando sarò capace di amare di giorgio gaber ha commosso tutti la perfetta armonia e l'intensità con cui hanno eseguito il pezzo hanno creato un'atmosfera carica di emozione anche anna tatangelo ha espresso il suo apprezzamento per la scelta della canzone e la loro esecuzione emozionante michelle ha poi annunciato una sorpresa per daniel e georgia la comparsa della nonna e della mamma dei due concorrenti con le lacrime agli occhi hanno ringraziato per l'emozione regalata